Radescare gli uomini per la strada, dimmelo. Eeeh, non direbbe staria, ma mozza tua. Ho trovato! Questa volta ho l'asso della manica. Volenti o nolenti, quelle due, almeno un mese di lutto dovranno rispettarlo che sei in casa. Certo. Ma sì, siamo a posto. Un mese di attinenza è sufficiente. Eh, Nico, siamo in una botta di ferro. Corazzate siamo. Ciao, Vincenzo. Oh, un momento. Ma che c'è? E come che c'è? E la serviccia della villa? Eh sì, bisogna neutralizzare anche quella. Sano, ma che dici? Come che dico? Ma non penserai che Caterina si accoppia con un cameriere. E che ne so io? Si accoppia? Eh. Una signora. Ma come puoi pensare che può mettersi con un servo? Per denaro anche una donna più onesta del mondo si vende. E' questione di prezzo. Ma che dici? Io non ho prezzo. Non lo farei nemmeno per un miliardo. E per dieci miliardi? Disgraziato, tocca! Lei o non lo farei nemmeno?